Stiamo tutti recitando su un palco, in questo spettacolo chiamato Vita, Galjit. Alcuni vogliono che sia una tragedia ricca di sofferenza e morte. Altri ambiscono a un lieto fine. Ma che ruolo interpretare lo puoi decidere solo tu e trasformare questo tuo incubo, la sofferenza, la solitudine, in qualcosa di meglio, in un sogno a cui aspirare. Mi chiamo Galjit. Ho 128 anni, sono un elfo uomo. Una bella ragazza come te non dovrebbe bere così tanto. Chiudi il becco e riempi. Carattere. Beh, la mia vita è andata a puttana nel giro di 36 ore. Non sono la tua, signorina, non sono la tua. Ti svegli il giorno dopo e non sei più chi credevi di essere. Tutto quanto è stato preso e buttato nel cesso. E adesso vivi ogni giorno guardandoti allo specchio, non sapendo più chi sei. Tu sei di stirpe reale. Più di una persona hanno cercato di usarmi e costringermi a fare progenie per portare avanti la stirpe. Non è quello che voglio. Gli elfi hanno fatto il loro tempo. Per quanto mi riguarda è giusto che scompaiono così come scomparso l'impero. Oh, porca puttana. Ehi, Galgit. Ma che cosa ti succede? Galgit. Non sono bella merda. Hai mangiato quel seme, Galgit. Sì. Mio padre deve essere stato un uomo interessante. Sei sopravvissuto ancora una volta. Sei sopravvissuto a una marea di merda. Puoi farcela figliolo. Lo so io. In fondo lo sei anche tu. Non è che posso e che devo. O si cede o ci si rialza. E noi non siamo tipi che cedono. Mai. Ti voglio bene, Marmocchio. Ti voglio bene anch'io. Se vuoi vivere a lungo, Galgit, prevedi l'imprevedibile. Ho lavorato come investigatore. Collega. Tanto tempo fa. Mi chiamo Brian. Galgit. Puoi chiamarmi Rocca. Galgit. Galgit. Sì. Non è strano, paura umana. Oh, non sai quanto, so. Amico. Non è ancora giunto il momento di decorre questa maschera e lasciare questo palco su un grande palco di questa vita. Mi sistemo il cappotto sulle spalle e esco. Ancora molto da imparare, ma sono sicuro che un giorno, quello che per ora è solo un sogno, potrebbe concretizzarsi. Fiamma. Un sognatore non si perde mai, soprattutto se si porta dietro il suo ferro. Ancora. Grazie a tutti